Ti compri una Dacia essenzialmente per spendere pochi soldi ma contemporaneamente sederti su una macchinina di aspetto grazioso oltre che estremamente pratica e intelligente. Se vuoi spendere poco non pensi immediatamente a un'auto elettrica, tuttavia vista la piega che ha preso ultimamente la società tanto vale accettare la realtà e considerare sempre più concretamente anche l'idea di una Dacia elettrica che in realtà esiste già, è sul mercato dal 2021, si chiama Spring e nel 2024 riceve uno squisito aggiornamento. Sgombriamo subito il campo dagli equivoci, non si tratta di un modello di nuova generazione, sottopelle è la stessa identica Spring di prima, tuttavia grazie a mirati interventi all'esterno e all'interno la percezione cambia in modo sensibile. Il nome Dacia Spring individua un modello costruito in Cina da Renault in joint venture con la locale Dongfeng sulla piattaforma cosiddetta CMF AEV, un pianale particolarmente agile e leggero tanto da assegnare a Spring il titolo oltre che di elettrica più conveniente sulla piazza, anche di elettrica più leggera in assoluto, meno di una tonnellata di peso. Un'ottima notizia. Nel 2021 il debutto assoluto, nel 2022 la nuova identità visiva, nel 2023 l'arrivo della motorizzazione più potente per arrivare al 2024 con il vero e proprio restyling. Stessa piattaforma precedente quindi anche stesse dimensioni esterne, 3 metri e 70 di lunghezza, quindi le misure di un'auto per la città che è poi il territorio ideale di un'elettrica. Diciamocelo pure, Dacia Spring pur essendo l'elettrica più conveniente in assoluto della piazza non ha mai brillato per il suo look. In realtà già con il mini aggiornamento del 2023 aveva compiuto qualche piccolo passo in avanti. Ora tuttavia avviene un salto di qualità più importante ancora. Il frontale ora guadagna la nuova mascherina con il nuovo logo, i caratteristici fari a forma di Y e un nuovo fascione inferiore. In realtà questa grafica molto moderna è un'esclusiva dell'allestimento top di gamma Xtreme. Differenti i pannelli sulla fiancata, nuova infine la grafica anche dei fari a posteriori. Il motivo sempre quello della Y, chissà perché. Complessivamente ora Spring adotta un linguaggio stilistico più simile a quello inaugurato con nuova Duster. Uno stile quindi sempre semplice, essenziale, ma allo stesso tempo più moderno, più robusto e meglio definito. Un richiamo a nuova Duster sono in particolare i passaruota e i paraurti tinti direttamente all'origine. Una tecnica che consente loro di resistere ai piccoli grafi quotidiani senza perdere il colore. E a proposito di colorazioni, debuttano due nuove tinte esterne, il beige safari e il rosso mattone. A proposito di concretezza. Ma in realtà le novità più interessanti si nascondono al suo interno. La plancia viene completamente riconfigurata. Dietro il nuovo volante, ora regolabile in altezza, ecco un quadro strumenti digitale con display personalizzabile da 7 pollici di serie su tutte le versioni. Mentre al centro, in luogo del precedente schermo incastonato dentro la plancia, ecco un nuovo display touchscreen a sbalzo con diagonale da 10 pollici. C'è la navigazione integrata, ci sono i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. In realtà il nuovo schermo è una prerogativa dell'allestimento top di gamma. Sulla base invece troveremo un pratico supporto dentro il quale incastrare il nostro smartphone e utilizzarlo dopo averlo connesso tramite app come vero e proprio sistema di infotainment. È una soluzione che per i clienti Dacia suonerà già familiare. Alla base della console il precedente selettore di guida a rotella, dalle logiche per la verità non sempre rapide e intuitive, lascia il posto a un più moderno e senz'altro più pratico comando a levetta. Complessivamente l'impressione di una migliore qualità dei rivestimenti tessili e plastici, sempre un discreto spazio sia in prima sia in seconda fila, almeno limitatamente a quattro persone e ricordandosi che parliamo pur sempre di una city car, inoltre una buona organizzazione dei vani portaoggetti. Tema per il quale è doveroso fare una menzione per l'ingegnoso sistema Uclip, una soluzione brevettata da Dacia grazie alla quale fissare ad appositi fermagli oggetti come porta smartphone, una torcia, una borsetta e qualsiasi altra cianfrusaglia. Il volume del bagagliaio ora raggiunge i 308 litri, cioè il 6% in più rispetto a prima. Anche sotto il cofano anteriore un volume extra di 35 litri. Invariate le caratteristiche del gruppo motopropulsore, quindi sempre la duplice scelta tra motore elettrico da 45 o 65 cavalli, che per la città possono anche bastare. Batteria da 26,2 kilowattora di energia e autonomia stimata in circa 220 chilometri, idem come sopra, ok per un impiego urbano, un po' meno per tutti gli altri tipi di utilizzo. Di serie la ricarica in corrente alternata a 7 kilowatt, soltanto in opzione invece il cavo per la ricarica veloce, si fa per dire, in corrente continua fino a 30 kilowatt, per ripristinare l'80% della batteria in circa 45 minuti. A parziale consolazione ora la funzione di frenata rigenerativa consente di racimolare qualche chilometro di autonomia in più anche durante la marcia. Una gradevole novità è invece la funzione di ricarica bidirezionale. Per trasformare spring in una sorta di maxi caricabatterie su quattro ruote e alimentare all'occorrenza, perché no, anche la macchinetta del caffè. In Italia due allestimenti, Expression ed Extreme, non viene invece importata la versione Basic Essential. Gli ordini apriranno in primavera, le consegne scatteranno nel corso dell'estate, i prezzi non sono ancora stati comunicati ma non dovrebbero allontanarsi da quella soglia di 20.000 euro che ne ha sin qui decretato un discreto successo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che effetto vi fa, continuate a seguirci anche sugli altri nostri canali social. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!